Saba quest'anno presenta al Salone molte novità che hanno però un filo conduttore e di cercare di dare una risposta attraverso i prodotti a delle domande che noi ci facciamo. Una delle domande che ci siamo fatti è stata quella, è possibile ci sia un accordo tra l'illusione e la realtà. Questo è un concetto che può anche sembrare banale, in realtà ha dato vita ad un prodotto che abbiamo chiamato Black Swan. Volevamo un occhio al mercato e a questo momento storico che richiede molto equilibrio, molta razionalità, dare comunque un prodotto che fosse di facile comprensione. Ma nello stesso tempo lo puoi trasformare e diventa con un gioco di sovrastruttura di cuscini molto simile a quello che la natura fa nelle ali di un uccello o di un angelo. Oltre a questa risposta che abbiamo dato tra illusione e realtà, tra lo stare seduti formali e informali, l'altra idea che ci piace è il gioco della sorpresa. Questa poltroncina da un panno può diventare lino e poi avere una duplicità, una doppia cromia. L'altro prodotto che abbiamo presentato è in qualche modo un mio sogno. Un cuscino, un accessorio che è molto vicino alla naturalità della seduta. Quanto ci piace toccare gli elementi veri della vita, stare appoggiati, straiati. Questo prodotto è chiamato Nonchalance, con una cerniera sfilabile. Ottieni una seduta che diventa contemporaneamente cuscino d'appoggio o chaise longue.